che fantastica questa batteria ragazzi molto leggera lui lo ammetti eccoci qua giunti sul torrente più famoso al mondo il torrente elvo adesso stiamo facendo una bella diga dovremmo esserci abbiamo aggiunto anche un po' di erba come argilla la rendo che meraviglia così gira molto di più o se no si possono mettere anche dei sacchi quelli di arriso quindi di sabbia così quelle che scrivono diga è veramente poca la corrente e riusciamo a farla lavorare comunque tanto sta canna lì mi lunga 90 cm anche se lascia una trappola e non c'è problema l'importante è che lavora come vedete qua la skipper evolution è diventato un dragonfly ciao 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 Un dragonfly tante volte, carole! La Magnum! Viaggia, eh! Adesso! Questi qui sono comunque dighe un po' eccezionali a differenza di quella, scegli il punto strategico e la fai un attimo Voglio dire che tra questa qui e l'altra, ma visto senza... Questa qui c'è un casino Stretta così nella corrente Sì, sì, è così che si fanno Io me la sono sempre immaginata così In mezzo al torrente, con la corrente alte Stai bene, mi sentai Noi! E' quello qua lo scavo, abbiamo iniziato da qui fino alla Carriol Bike, guardate come tutto bello ricaperto, sembra che neanche sia passato qualcuno a scavare, adesso siamo all'ultimo tratto, si ricopre andando avanti e lì rimane l'ultimo tratto da ricoprire, poi alla fine. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.